Allora, altro punto importante da sottolineare, su cui faremo una brevissima riflessione sempre per ciò che in realtà sarebbe necessario dire, è sicuramente la riflessione che Heidegger fa sulla poesia, su Hölderlin, in particolare. Tra i tanti poeti che tratta, però sicuramente analizziamo queste delucidazioni, chiarificazioni su Hölderlin. Il testo di riferimento chiaramente è sempre esposto e Heidegger dice proprio nella prefazione alla quarta edizione che queste appunto delucidazioni nascono da una necessità del pensiero, cioè cogliere l'essenza della poesia, tipica impostazione heideggeriana ovviamente, che però porta, ecco, semmai prima di avvicinarci proprio precisamente ad Hölderlin, di fare una brevissima riflessione sul linguaggio, anche per come l'abbiamo considerato, diciamo, fino ad ora. È altissima, ovviamente, la cura che Heidegger dedica al linguaggio. Veramente Heidegger scrive e scrive sulla questione del linguaggio, dell'impossibilità del linguaggio metafisico, di cogliere l'essere, sull'occultamento dell'essere da parte del linguaggio metafisico, sul fatto che l'uomo è aperto al linguaggio, sul fatto che l'uomo è in cammino verso il linguaggio. Insomma, già da Sein und Zeit si manifesta questa riflessione di Heidegger sul linguaggio. Quindi, questa riflessione verso il linguaggio è una riflessione tanto da un punto di vista meramente filosofico, e quindi, per esempio, facendo anche ampie analisi etimologiche, con cui si vanno a revisionare, a riscrivere alcune significazioni delle parole, ma anche con la creazione di neologismi, con la forzatura che si fa di alcuni termini, e soprattutto con il tentativo di scardinare quel linguaggio chiuso, quel linguaggio appunto funzionale, il linguaggio dell'uso, il linguaggio del quotidiano, il linguaggio della chiacchiera. Quindi, questo da un punto di vista filosofico, ma poi anche al di là del punto di vista meramente filosofico, quindi aprirsi ad altre forme del linguaggio, che sono sicuramente, ad esempio, le forme artistiche su cui Heidegger si dedica, architettura, arti figurative, plastiche e quant'altro, ma poi soprattutto della poesia. E perché la filosofia, questo potrebbe essere il primo punto da cui partire, per quale motivo la filosofia ha bisogno di sconfinare nel poetico? L'avevamo già vista, questa cosa, sicuramente, e sicuramente Heidegger ha bene in mente Nietzsche, lo Zaratustra, ma Nietzsche, al di là dello Zaratustra, sconfina anche nella vera e propria poesia. E poi, soprattutto, Nietzsche, in verità e menzogne, in senso extramurare, riflette a sua volta sul linguaggio. Dice che, appunto, il linguaggio è una sorta di stabilizzazione del mondo. Con il linguaggio noi ordiniamo un mondo perché ci viene più comodo e umanizziamo, ecco, questo mondo. Diamo delle forme antropomorfe al mondo. L'occhio del ciclone, per dire, ecco, questa, banalmente parlando, il collo della bottiglia. Insomma, sono esempi banalissimi, ma per capire che noi sovrapponiamo al mondo una sorta di umanizzazione perché ci viene più facile cogliere e stabilizzare un mondo, appunto, umanizzato e meno inquietante. Ma, appunto, diciamo, per quale motivo la filosofia ha bisogno di compiere questo cambio di registro? Heidegger ha presente tutto questo, ha presente Nietzsche, soprattutto. E allora, perché forse, tentiamo così, sempre banalmente, una risposta, perché forse attraverso il linguaggio poetico si apre e conviene qui veramente soffermarsi su questo senso dell'apertura, che sarà fondamentale. L'apertura in Heidegger è sempre anche ascolto, è sempre anche attesa. Ci siamo soffermati molto sulla questione della tecnica, no? Affidare il seme al mondo e attendere il dono del mondo. E quindi, attraverso il linguaggio poetico, si apre una nuova dimensione, una nuova modalità del pensare, potremmo dire così, in modo molto provvisorio. Il nostro modo di pensare, per Heidegger, è il modo della metafisica. La metafisica è oblio dell'essere, su queste cose non ci ritorno, anche perché sono, credo, stranote, ma soprattutto l'essere è appunto entificato, no? Ed interpretato nell'orizzonte della metafisica, cioè nell'orizzonte di questa enticità. Quindi, per Heidegger, il problema è quello di trovare una nuova dicibilità, oppure una più originaria dicibilità dell'essere, o quantomeno tentare di uscire dalla chiusura dell'orizzonte metafisico, quindi dall'entificazione del mondo. Ma soprattutto, per Heidegger, la riflessione sul linguaggio non è riflessione linguistica, attenzione, perché altrimenti finiremmo appunto in una sorta di metalinguaggio. Quello non farebbe altro che continuare a configurare il linguaggio come qualcosa da analizzare, come un oggetto da analizzare, e quindi una chiusura. E soprattutto non farebbe altro che parlare del linguaggio come di un uso. Ma è una riflessione sul linguaggio inteso come evento, dove accade, o potrebbe accadere, o dovrebbe accadere l'essere. Va bene? Allora, diciamo, il problema del linguaggio è un problema per Heidegger originario. Già in San Unzait, appunto, dicevamo, nel 27, emerge questa stretta correlazione che c'è tra linguaggio ed essere. Perché facciamo questa riflessione? È fondamentale partire da qui, per arrivare a capire quello che poi Heidegger dirà nella lettera sull'umanismo. È fondamentale. Quindi, all'interno dell'essere, inteso come evento, diciamo così, e dalla pensabilità dell'essere, che passa però in un'esigenza diversa del linguaggio, che deve essere un linguaggio ascoltante, che si sgancia dal linguaggio come strumento di comunicazione, come strumento che esprime i concetti, ecco perché è fondamentale questa questione dell'ascolto. Tutto quanto il linguaggio per Heidegger non fa che marcare questo senso, questo uso. Noi quando ci rapportiamo alle cose, ma su questo semmai anche poi ci si può ritornare, anche se queste cose sono state dette, stradette, noi quando ci rapportiamo al martello non lo percepiamo mai come cosa, lo percepiamo sempre come uso, come qualcosa che deve essere usato, non come cosa. Allora, bisogna sganciarsi dal linguaggio come strumento, come strumento di comunicazione, come uso, come strumento che esprime concetti, quindi come linguaggio metafisico, ma il linguaggio deve o dovrebbe essere fuori dall'asserzione del giudizio logico. E questa dimensione del linguaggio deve e dovrebbe essere superata, è da qui che si apre la questione del poetico, perché si apre la questione del poetico, perché nel linguaggio che parla dell'ente in quanto ente, cioè del linguaggio che entifica l'ente, così come nel celebre esempio che fa proprio Heidegger, il cielo è azzurro, chiaramente dice Heidegger, questo è un fatto che è comprensibile per tutti quanti, tutti quanti noi capiamo che il cielo è azzurro, secondo proprio questa costruzione predicativa. Però ecco che a livello di questa stessa comprensibilità si manifesta un enigma, cioè il cielo prima di essere azzurro è qualcosa. Però questo non viene colto, perché tutto quanto viene pensato nella modalità del filtro metafisico, e quindi appunto, come dicevamo, il martello viene pensato come strumento che deve essere usato, ma non viene pensato in quanto cosa, e soprattutto il martello che viene pensato come strumento innesta relazioni di significato con altre cose che hanno determinate relazioni di significato, e che a loro volta sono in relazione con altre cose ancora, che però noi percepiamo sempre nella loro utilizzabilità, e mai nella loro causalità, quantomeno. E Heidegger quindi si pone, ecco questo problema del linguaggio, siamo partiti da Sein und Zeit, è emblematica quest'opera, perché? Perché in Sein und Zeit manca la terza parte, manca la terza sezione, parte, come la vogliamo chiamare. E per quale motivo manca? Ecco perché dicevo che è importante questa riflessione che farà vent'anni dopo, ventisette lettera sull'umanismo, la scrive nel 46, pubblicata nel 47, comunque vent'anni dopo. Heidegger dice precisamente che manca questa sezione, perché non fu mai pubblicata, dice Heidegger, perché, qua cito, il pensiero non riusciva a dire in modo adeguato questa svolta, la famosa care, e non ne veniva a capo con l'aiuto del linguaggio della metafisica. Cioè, praticamente, Heidegger si rende conto del fallimento di poter superare la chiusura dell'orizzonte metafisico attraverso quel linguaggio che, essendo linguaggio della metafisica, inevitabilmente assume la griglia interpretativa della metafisica, perseverando quindi nell'oblio dell'essere, perseverando quindi nella chiusura strumentale dell'uso delle cose e, insomma, del rapporto dell'uomo con il mondo. Ma l'uomo ha una originaria coappartenenza con l'essere. L'esserci dell'uomo è, appunto, esserci. E questa originaria coappartenenza è dimenticata se filtrata dal linguaggio metafisico. metafisico. Ed ecco perché Heidegger dirà che solamente i pensatori o i poeti sono i custodi della dimora dell'essere. E la dimora dell'essere è il linguaggio stesso. Quindi l'essere accade nella sensibilità e si dà nella dicibilità del linguaggio. L'uomo è l'essere dotato di linguaggio. Ma non deve essere inteso questo uomo dotato di linguaggio come se fosse una sua facoltà, perché già ci andremo a porre nell'orizzonte di una utilizzabilità nuovamente, strumentabilità nuovamente. Ma si trova nel linguaggio perché è l'essere che si dona all'uomo come linguaggio e l'uomo non potrà far altro che parlare il già detto di questo evento dell'essere che si accade appunto nel linguaggio. Come dice proprio Heidegger, Disprach e Spricht. Si tratta di mutare quindi il rapporto nei confronti del linguaggio perché non è l'uomo che deve disporre del linguaggio orizzonte metafisico, ma pensare il linguaggio, l'essenza del linguaggio, aprirsi al linguaggio, ascoltare il linguaggio, aspettare questo accadimento del linguaggio. E quindi spetta all'uomo attivare un diverso rapporto verso il linguaggio, cogliere il linguaggio come evento, coglierlo come qualcosa che è. Il linguaggio è soprattutto evento da questo punto di vista e non segno. Il linguaggio come segno, come tutta quanta la linguistica lo interpreta, è il linguaggio della metafisica che non coglie la potenza dell'espressione del linguaggio che parla. Il linguaggio non parla, ma fa parlare l'uomo, allora siamo nella metafisica. Se il linguaggio non parla, ma viene parlato dall'uomo, siamo nell'orizzonte della metafisica. Perché il linguaggio parla solo se l'uomo sa tacere, se l'uomo sa aspettare e non più parlare. e si apre ad un'esperienza diversa che è il poetico. Nel poetico l'uomo si pone nell'ascolto verso il parlare del linguaggio e si incammina verso il linguaggio. È l'uomo che si incammina verso il linguaggio, è l'uomo che utilizza il linguaggio. Ecco, questa era un po' una premessa. Ora, per venire al testo, che è molto bello, è anche molto chiaro soprattutto. Più che è bello, è chiaro. È bello nel senso che è costruito bene. Che si apre con una citazione che credo a questo punto dovrebbe suonare molto chiara. Pagina 6. Il discorso di delucidazione deve ogni volta distruggere se stesso e ciò che ha tentato. Per amore del poetato, la delucidazione che cos'è, ovviamente? La delucidazione è proprio quello utilizzare il linguaggio, di spiegare il linguaggio come segno, di spiegare il linguaggio come metafisica. Allora, il discorso della delucidazione deve ogni volta distruggersi. Per amore del poetato, la delucidazione della poesia deve cercare di rendersi superflua. L'ultimo passo, ma anche il più difficile, di ogni interpretazione consiste nel dileguarsi insieme alle sue delucidazioni di fronte alla pura presenza della poesia, cioè dell'altro versante, quello dell'ascolto. Soprattutto, Heidegger si concentra su una questione fondamentale in questo senso. Mettere in crisi colui che indaga, capire se siamo o meno, quindi nel tempo presente, non di indagare elderly, ma di appartenere in un certo qual modo a quel dire che si è manifestato nel dire dell'apertura della poesia di elderly. Quindi ciò che conta è comprendere se noi siamo in grado di prestare ascolto e cura alla poesia e dal linguaggio poetante. Ed ecco perché i nostri enunciati non devono coprire le parole, anzi, la parola che ci viene incontro. La nostra parola predicente non deve sopravvanzare la parola che si rivolge a noi, ma piuttosto farlesi incontro. E appunto Heidegger, in cammino verso il linguaggio, abbiamo detto. Allora, qui Heidegger poi riferisce di un'esperienza di Hölderlin, una lettera a Bolendorf, dove Hölderlin dice che si è avvicinato allo spirito greco grazie ad un viaggio nella Francia del Sud e questo accostarsi alla grecità viene sotto il segno della luce, della cura. Ricordiamo che sono parole chiave per Heidegger anche in filosofia, avere cura. E soprattutto in quelle metafore, diciamo così, del bosco e della terra. avere cura del seme e attendere che il seme si dischiuda. Allora, questa luce, sguardo, blitz e il lampo, blick e lo sguardo, è lo sguardo luminoso che situa l'esserci. E come dice Heidegger, è per questo che il temporale è chiamato l'esserci di Dio, questo dispiegamento della luce. Heidegger si concentra molto nella fase iniziale sulla questione della luce che deve essere intesa proprio come un diradamento che rende libero e aperto, quindi rado e luminoso il mondo. Un diradamento che libera il welt, il mondo, dalla chiacchiera, dalla gherede. Ecco, questo ritornare a casa verso la luce è la tensione che anima la filosofia verso il sa-fess, come suggerisce anche Severino, verso ciò che è maggiormente luminoso. Ma soprattutto è il compito di questo pensiero poetante. Quindi, tale luce non può andare incontro a chi risponde al richiamo della luce cercando di intrattenersi in una disposizione diciamo così impositiva nei confronti della luce non è una luce che si può né subire in modo passivo ma neanche sulla quale si può agire ma una luce alla quale bisogna rispondere con il saluto e qua Heidegger cita sempre Hölderlin ovviamente il gioioso viene incontro solo là dove un poetare risponde al suo saluto bisogna aprirsi all'essere attraverso un diverso modo del pensare che non può essere quindi quello della metafisica che non saluta ma impone dispone richiede come dicevamo sulla questione della tecnica e quindi si tratta di una luce che mostra un altro mondo un mondo che non viene più visto secondo le incostazioni di un sapere tecnico che non fa altro che vedere fare l'esempio del lago di Costanza ma si può fare l'esempio del bosco insomma di qualsiasi cosa il lago di Costanza visualizzato secondo uno sguardo geografico profondo a un determinato modo largo una determinata misura con una densità d'acqua fatta di determinati composti chimici situato in una precisa coordinata geografica questo è proprio il sapere tecnico geografico ecco fin quando si vede la natura in questo modo o si pensa che al di là del mondo tecnicamente dominato ci sia un mondo naturale siamo totalmente lontani dal mondo dalla dimensione del pensare poetico ed è chiaro che un mondo investito da queste stratificazioni di saperi potremmo dire utilizzando un'espressione che prendiamo sempre da quel famoso corso dell'Ese Foucault ecco affrontare diciamo queste stratificazioni del sapere rende sì il mondo meno inquietante perché lo rassicura e lo stabilizza ma ci allontana da quella altra modalità del pensiero ed ecco perché bisogna rischiare l'abisso affrontare il pericolo della destabilizzazione del divenire potremmo anche dire come dicono quei versi di Heidegger che ripete sempre vicino è difficile ad accogliere il dio ma dove il pericolo cresce anche ciò che salva pagina 26 capiremo ma in realtà anche questo l'abbiamo già detto perché ciò che è maggiormente vicino anche nel senso di originario è il più difficile da cogliere ed è ciò che si coglie sempre dopo abbiamo detto che ciò che è maggiormente originario nella filosofia di Heidegger è ciò che viene sempre dopo prima si coglie l'utilizzabilità delle cose e poi semmai si può porre la domanda sull'essenza però quella è la domanda più originaria allora la parola interessante da questo punto di vista è proprio la parola vicino ciò che è vicino è proprio quella quell'essenza che si è chiusa a causa del paradigma veritativo occidentale la luce è vicina è a disposizione ma non la si ascolta ed ecco che è un vicino massimamente lontano e infatti appunto era la stessa cosa che si diceva sulla tecnica noi della tecnica restiamo meravigliati da questa motorizzazione del mondo però questo non ci permette di porre la domanda sull'essenza della tecnica allora la parola per Heidegger questa parola saluta saluta che cosa? saluta un incontro un dialogo ecco perché Heidegger non si stanca mai di porre più o meno sempre le stesse domande perché Hölderlin ad esempio chiaramente l'essenza della poesia non è che si realizzi solamente in Hölderlin ma poi soprattutto è possibile cogliere questa essenza della poesia non è forse la poesia di Hölderlin una poesia sulla poesia e quindi questo poetale sulla poesia non dovrebbe già essere segno di decadenza come l'arte critica già non è più arte e allora qui ancora una volta potremmo dire che in Hölderlin il linguaggio è il più pericoloso dei beni eppure ancora un'altra domanda chi è l'uomo in questo scenario perché l'uomo è colui che deve testimoniare cosa testimonia testimonia il proprio esserci nel testimoniare l'esserci testimonia il proprio senso di appartenenza al mondo e alla terra il carattere della pericolosità è perché attraverso questa chiusura totale della metafisica si crea la possibilità di una apertura più originaria e l'uomo trova proprio nel linguaggio un modo per stabilizzare il mondo e stabilizzare il mondo significa avere la possibilità di manipolarlo ma identificando il mondo occulta l'essere però nello stesso tempo attraverso il potere del linguaggio si costituisce la possibilità di perdere l'essere ma nello stesso tempo di ritrovarlo ed ecco perché attraverso il linguaggio si può sia occultare qualcosa ma nello stesso tempo conservare qualcosa il linguaggio per come lo intendiamo quasi sempre non vede la differenza tra la parola essenziale è la parola del quotidiano questa è una cosa su cui Heidegger si sofferma molto l'essenza del linguaggio non si esaurisce nel suo essere mezzo per intendersi il linguaggio come mezzo non va bene ok il linguaggio dell'uso il linguaggio come strumento non permette di compiere questo salto di cui appunto ci parla Heidegger allora cerchiamo di fissare ancora semmai questo punto e poi semmai andiamo a concludere l'uomo attraverso il logos coglie sicuramente uno dei suoi caratteri più importanti però ancora una volta il logos non significa emettere segnali o suoni ma deve essere inteso come una porta di accesso verso qualcosa ed ecco perché solamente là dove c'è il linguaggio si ha un mondo ma nello stesso tempo si ha anche qualcosa di più dove c'è il linguaggio si ha un mondo ma dove c'è il mondo c'è tempo e dove c'è tempo può esserci l'evento che avviene nel tempo ecco perché essere e tempo come estrema possibilità dell'essere uomo quindi l'essere dell'uomo si fonda sul linguaggio sprake ma questo accade solo nell'apertura di un ascolto che attende ed ecco perché se si intende il linguaggio come un insieme di regole sintattiche morfologiche come la grammatica come una semantica più una sintassi come dicono anche Deleza e Guattarimmi il plateau allora noi restiamo solamente nell'aspetto esteriore del linguaggio perché ciò che è più essenziale del linguaggio è proprio quell'incontro con l'evento che è possibile solamente nella dimensione dell'ascolto e quindi noi diventiamo in questo incontro evento in una dimensione del colloquio dove ci si può ascoltare dove è possibile l'incontro e si saluta come diceva appunto quella citazione iniziale quindi come abbiamo detto ovviamente stabilizzare il mondo è utile per l'uomo è d'altra parte anche rassicurante però ecco e questo è un po' il pericolo il pericolo di limitarsi poi a questa stabilizzazione lo stabile dice Heidegger pagina 49 è ciò che lotta contro il travolgimento quindi poeticamente abita l'uomo su questa terra e a questo punto si può iniziare a leggerla in un modo in un modo diciamo un po' più chiaro probabilmente poeticamente significa tante cose poeticamente significa creativamente della poesis proprio creando producendo parole aprendo parole ma poeticamente è anche nel senso di aprirsi all'ascolto poeticamente abbiamo detto non è nel senso di utilizzare il linguaggio o di pensare il linguaggio come semantica più una sintassi ma appunto di aprirsi all'ascolto della lingua ma poeticamente è anche nel senso dell'incontro del saluto di colui che attende e saluta e di colui che non vuole più manipolare ma poeticamente anche nel senso del custodire l'essenziale della vicinanza abbiamo detto ciò che è più essenziale è ciò che è massimamente vicino ciò che è massimamente vicino è tale perché è massimamente originario però ciò che è massimamente originario si mostra sempre dopo però poeticamente è anche questo custodire l'essenziale nella vicinanza e ecco perché per Heidegger è necessario sempre riflettere sulla natura la natura è sempre fiusis come dice Heidegger che non deve essere tradotta banalmente con natura ma con crescita crescita nel senso di venire fuori di un sorgere che è aprirsi è il sorgere il sorgere dell'aperto è il diradare e il luminare della Lichten e questa fiusis quindi significa un ritirarsi in sé di qualcosa che lascia sorgere qualcos'altro ecco che allora questo senso dell'apertura il caos che sta per spalancamento sbadiglio ecco di fronte al caos a questo caos non è possibile porre strutture stabili epistemiche ed ecco perché l'apertura originaria è il grande scandalo ma il caos è scandalo solamente per l'esperienza che concepisce il caos mediato dall'entificazione degli enti che è appunto la griglia interpretativa della metafisica che occulta l'essere ma pensato nel senso originario della fiusis il caos è proprio quell'apertura a partire dalla quale l'aperto si apre per concedere ad ogni ente distinto il suo presentarsi definito pagina 77 ecco perché di fronte al caos è impossibile ogni avvicinamento nel senso della mediatezza del mondo identificato cioè del senso di una mediatezza di un linguaggio utilizzato come strumento secondo una semantica e più una sintassi questo sorgere originario che poi resta chiaramente presente in tutto come massimamente vicino come massimamente originario e quindi come ciò che si mostra sempre dopo ed è il più difficile da cogliere è proprio l'adombrarsi nell'entificazione dell'essere è l'essere che si adombra nell'entificazione è quel sorgere quindi che resta in balia del pervertimento e della dimenticanza del mondo occidentale bene ecco perché Heidegger dice che pagina 80 gli uomini hanno preso questo dono della natura divinamente bella solo per la loro utilità e al loro servizio e hanno così abbassato l'onnipotente in figura servile ma la natura nel rilassamento che l'assenait ha lasciato che così fosse e ha lasciato gli uomini al misconoscimento del sacro quindi è chiara questa duplice possibilità del pensiero e del linguaggio linguaggio come uso linguaggio come evento linguaggio come apertura linguaggio come chiusura anche la verità verità è intesa come veritas quindi come barriera e verità intesa come alezza e come apertura allora e questo è il senso rovesciato della notte di cui parla Heidegger ad un certo punto tutto quanto il pensiero occidentale metafisico vede nel giorno il positivo della notte vede nel giorno la possibilità di distinguere gli enti di cogliere meglio gli enti ma per il pensiero questo è chiaramente per il pensiero del linguaggio come uso per il pensiero della metafisica ma per il pensiero poetante la notte è il pre-filosofico è il non ancora codificato la notte da questo punto di vista è l'informalità per dirla sempre con Deleuze Foucault è il pre-formale il pre-dato sono singolarità non individuali non ancora individuali è l'ascolto aperto che non ancora ha chiuso e stabilizzato il mondo nella sua identificazione d'uso si tratta quindi di una sovrabbondanza non ancora attualizzata nelle forme del sapere e quindi un precursore oscuro che si attualizza nel giorno e che nel giorno trova un proprio limite una propria stratificazione una propria divisione un proprio calcolo e quindi nel tempo della notte nel tempo oscuro la notte tiene ancora in serbo il divino trascorso che nasconde la venuta degli dèi diciamo così è una notte che è sicuramente inquietante ma che pertanto deve essere colta diciamo così in un modo diverso che non può essere cioè può essere sì l'illuminazione ma non l'illuminazione dello sguardo calcolante ma un'apertura semmai luminosa che non precipita le cose nell'entificazione ecco calcolante quindi si ritrova qui un po' quel senso anche della grecità la Grecia come oriente come grande inizio che può ancora venire che può essere rammemorato e di fronte a questo oriente aurorale l'occidente si configura per Heidegger come il luogo della problematicità come il luogo della tecnica manipolante come dice proprio a pagina 211 viene già compresa in quanto pianeta in un calcolo che dispone dello spazio cosmico interstellare dice poi poco più avanti forse l'Europa è già diventata ciò che è un mero promontorio ma al tempo stesso il cervello di tutto il corpo terrestre quel cervello che opera il calcolo tecnico-industriale planetario interstellare l'uomo di questa terra è infatti provocato dal dominio incondizionato dell'essenza della tecnica moderna insieme alla tecnica stessa a impiantare Beshtellen il tutto del mondo come fondo Beshten allora ecco l'Europa è già diventata il cervello di tutto il corpo terrestre sostanzialmente che significa è una cosa che tra l'altro mai la dicono un po' tutti anche i marxisti dicono il capitalismo si è diffuso nel mondo e il comunismo stesso è diventato capitalistico anche anche le istanze avverse al modo di pensare occidentale i popoli che erano più lontani come la Cina ormai hanno assunto l'identificazione del mondo secondo le prospettive e i quadri di visibilità del mondo occidentale secondo le griglie interpretative del mondo occidentale ecco che questo significa che l'Europa è il cervello di ormai di tutto il corpo terrestre si poteva forse anche pensare in un altro modo ma l'Europa ha imposto il suo pensiero tutto quanto il mondo ormai cosa che si ritrova anche in Levi Strauss insomma esce veramente ovunque questa riflessione ma attenzione là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva abbiamo detto qua mi vado un po' a riagganciare a quel discorso sulla tecnica poi di fondo è quello e significa che salvare deve essere inteso anche nel senso di condurre qualcosa all'essenza portare qualcosa alla sua manifestazione shinen appunto Hölderlin dice proprio cresce ma per crescere deve radicarsi deve mettere la radice da quelle radici poi cresce e si sviluppa allora che cosa si intende per essenza ancora una volta vesene si trova anche in parole come ausvesen statvesen affari domestici affari di stato in tal senso vesene non deve essere inteso tanto come essenza in senso classico ma si può intendere anche in un altro modo come uno stato amministrato come l'amministrazione domestica da questo punto di vista vesene non è tanto il senso essenziale di un perdurante al di là del tempo come se ci fosse un'essenza mitica tecnica che è intangibile non è un caso che Heidegger quando parla della tecnica cita una parola che si trova in Goethe e che è Fort Varent che sta per continuare a concedere diciamo così qualcosa che continua a concedersi questo significa che l'essenza della tecnica apre all'uomo la possibilità di essere portato verso qualcosa che senza quella tecnica non potrebbe darsi per l'uomo to cure quindi ecco attraverso la tecnica si continua a concedere in un certo qual modo la possibilità della salvezza anche perché come già abbiamo detto nel totale oblio dell'essere quell'oblio resta in relazione con l'essere e nel totale mondo dispiegato e tecnicamente motorizzato non si riesce a dare una risposta alla domanda qual è l'essenza della tecnica ma si continua ad utilizzare a restare affascinati dal funzionamento della tecnica allora si fa che bisogna cambiare marcia bisogna cambiare sguardo l'uomo viene portato verso l'apertura dell'imposizione tecnica che permette appunto questa concedentesi e che continua a concedersi e così l'uomo è portato anche verso il segreto della disvelatezza che si contrappone all'essere nascosto per alcuni aspetti il fair bongenite ma per far questo bisogna pensare alla tecnica ecco non più come strumento ma cercare di coglierla in un altro modo pensare l'essenza della tecnica e quindi cogliere in questo senso un disvelamento e non più come un mero strumento con cui dominare si passa quindi dal fare tecnico ancora una volta dal pensiero metafisico entificante al pensiero che attende l'essente disvelantesi donantesi per alcuni aspetti va bene quindi da un lato l'imposizione tecnica provoca impegnarsi nel furioso movimento del dominio che impedisce la visione dell'evento disvelante ma dall'altra questa imposizione perdura ciò che tra l'altro nasconde ciò che è più originario ma che comunque mantiene in relazione quindi in questo destino disvelante perché la totalità dispiegata della tecnica non ci dice ancora nulla sull'essenza della tecnica va bene e quindi si capisce che è necessario fare un salto passare da un pensiero ad un'altra modalità del pensiero ed è la poesia quest'altra modalità del pensiero ed è il perché Heidegger si rivolge appunto ad Hölderlin e qua chiudiamo insomma con la stessa citazione che si trova poi sull'essenza della tecnica che dice poiché l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico ecco qua non è la tecnica come dispiegamento come motorizzazione del mondo l'essenza della tecnica l'essenza della tecnica è tutt'altro ma ha bisogno di un cambio come il cambio che c'è stato nella terza parte mai scritta di essere tecnico quindi poiché l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico se con tutta la tecnica oggi dispiegata non riusciamo ancora a cogliere l'essenza della tecnica quanto più ci avviciniamo al pericolo il pericolo di un totale mondo amministrato eccetera eccetera tanto più chiaramente cominciano a illuminarsi le vie verso ciò che salva grazie a tutti Grazie a tutti.